Un'esemplare femmina di orangotango cieca ha recuperato la vista grazie a un delicato intervento di cataratta e poi ha dato vita a due gemelli sani in un centro di soccorso animali nell'ovest dell'Indonesia. Ma non solo, Gober è stata rimessa in libertà con i suoi cuccioli, Jin Ting, una femmina, e Ganteng, un maschio, proprio grazie alla riacquistata capacità visiva. La mamma però, subito dopo il ritorno alla vita selvaggia nella foresta, ha abbandonato Ganteng, lasciandoselo alle spalle. Questa storia però ha un altro incredibile retroscena. Anche il padre dei cuccioli è cieco. Il primate aveva perso la vista alcuni anni fa, dopo essere stato colpito da una sessantina di proiettili esplosi dai fucili degli agricoltori indonesiani, che considerano questi animali una vera piaga per le loro coltivazioni. Lavoro da 25 anni con gli orangotango e credevo di aver visto tutto, ma due gemelli nati da due genitori ciechi davvero sono un fatto eccezionale. Purtroppo il reinserimento dei cuccioli in natura ha funzionato solo in parte, ma è un risultato davvero importante, spiega Ian Singleton, direttore del programma per la conservazione degli orango di Sumatra. Il piccolo Ganteng però sta bene ed è stato riportato al centro di soccorso, dove crescerà insieme ad altri suoi simili, in attesa che possa tornare in natura. Dei 50.000 orangotango ancora liberi, il 90% vive in Indonesia e altri 2.000 si trovano nei centri di soccorso.